Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 22 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Archivio? No, meglio la foresta? Sarebbe proprio da archiviare questo venerdì, un tempo in calendario San Benedetto, con le rondini che tornavano al tetto. Le rondini tornano ancora, ma il santo invece è stato spostato, cosa che anche voi foresta volentieri, magari fuggendo nella foresta, che tra l'altro oggi festeggia la sua giornata mondiale. Forse sotto questo habitat meraviglioso trovereste riparo dalle intemperie stellari scagliate contro di voi dalla coppia Giove-Urano all'opposizione dai loro e vostri nemici, la luna allo zenite e il suo dirimpettaio Marte, più tagliente e battagliero che mai. Per non litigare con tutti, dando l'impressione di essere antipatici, la soluzione è gettarsi sul lavoro, alla lunga fare distrai, allontanando i pensieri più torbidi e cupi. E così a sera ci arrivate senza aver compiuto nefandezze o aver detto cose di cui pentirvi, aveva ragione San Benedetto con la formula ora et labora, nella parola labora è contenuto anche l'invito alla preghiera, dunque un filo diretto coi piani sottili, dove pace e serenità sono di casa. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe e inutili promesse e le speranze male riposte. Armatevi di pazienza e cercate di superare questo momento critico. Verranno tempi migliori. Non rischiate. È il momento di essere cauti e di pensare alle conseguenze delle vostre azioni. I nati di venerdì tra le 12 e le 15 oggi potrebbero avere dei problemi finanziari, occhi anche per gli altri. Incombono piccoli problemi economici e. Malte in arrivo. Non fidarti troppo di quello che ti diranno o ti prometteranno le altre persone. Stanchezza o problemi di salute dovuti a stress. Cerca di riposare di più. Avete bisogno di distrarvi. Lanciatevi pure in contesti diversi per fare nuove conoscenze. Non è il momento di stressarsi troppo. Amore e lavoro positivi. Solo che vi sentirete nervosi a causa di problemi familiari che non dipendono dalla vostra volontà. Quello che vi accade è un po' colpa vostra, non riuscite ancora a separare il presente dal passato, per questo non riuscite ancora a intravedere il futuro. Perché pensate che tutto vi va storto? Siate positivi, per i nati tra le 23 e le 24 di sabato poi ci saranno buone notizie. Chi vi dice che il vostro partner non desideri la stessa cosa? State solo dicendo la stessa cosa con un linguaggio diverso. Oggi Marte sembra invitarvi a stare con voi stessi, sarà di file trovare la giusta sintonia e potrebbe esserci del nervosismo che è dentro di voi da tempo. Previsione dei transiti planetari che vi solo favorisce moderatamente. Luna, Marte, Plutone, Giove e Urano vi sono ostili e vi dovete attrezzare per fronteggiarli. Il consiglio degli astri oggi è quello di non esagerare in ambizioni che potrebbero non essere proporzionate alle vostre possibilità. Non pensate insomma, che tutto sia possibile. Per vostra grande fortuna un saggio Saturno nel segno dei pesci vi spalleggia con la sua razionalità, il senso pratico, l'aderenza concreta alla realtà, in special modo se siete nati dal giorno 29 ottobre al 5 del mese di novembre. Decisamente non siete in vena, sul calendario sarà anche la giornata dedicata alla pace interiore, ma voi questo dolce sentimento proprio non lo avvertite, piuttosto un tormentone rabbioso con al voglia di esplodere in faccia a qualcuno. Effetto della luna prepotente in leone allo zenit, opposta a Marte e per giunta in quadratura ai vostri dirimpetta e Giove e soprattutto Urano, che in fatto di tritolo se ne intende parecchio. Fuori dal coro, senza nulla di speciali da raccontarvi, il sole e mercurio comunque ermetici, faticano a tenersi per sé alcune verità, ma se sono costretti. Meglio l'ulcera che il tradimento. Amore ed Eros. Nulla vi manda su di giri come la sicurezza del partner che sembra pronto a tutto senza fare una piega. Chissà come reagirebbe se gli compariste davanti tutta a un tratto trascinando due valigie, vuote naturalmente ma lui o lei non lo deve sapere, almeno si prenderà un po' di spago e forse comincerà a porsi alcune domande. Per esempio sul suo rapporto con la dorata genitrice o con il suo nerborutto genitore, persone che vi stanno decisamente sullo stomaco, come un piatto di nervetti con le cipolle. Di tenere la bocca chiusa, anche se il silenzio è l'imperativo del vostro segno, ne avete veramente piene le tasche, pronti a esplodere come l'atomica Aeroshima. Niente materiale radiattivo però, solo urla, striglie parole. Non proprio ortodosse. Lavoro e denaro? Per fortuna è già venerdì, perché con tutte le incombenze che il vostro capo vi ha impilato sulla scrivania potreste tirare fino a venerdì santo senza alzare gli occhi dalle vostre scartoffie. Bell'inizio di primavera, non c'è che dire, ma perché lagnarsi tanto? Dopo tutto il lavoro ce l'avete, pensate piuttosto a chi non ce l'ha e non sa più dove sbattere per mettere insieme il pranzo con la cena. Socio insondabile, lo stesso vale per l'interlocutore in affari, a tratti vi mostra un volto sorridente e disponibile, a tratti mutevole e inaffidabile. Quale delle due facce sarà quella giusta? Non resta che fare testa o croce. A proposito di monete, almeno su questo fronte sentitevi rassicurati, il tesoretto lievita che è un piacere. Benessere. Chiamatelo pure malessere, almeno non sarete accusati di ingigantire le cose e nemmeno di edulcorarle. Malessere è un vocabolo generico, significatore di una giornata di disagio tra tensione nervosa, fegato iperreattivo, sbalzi pressori, emicrania di natura digestiva. Dopo Ippocrate, Paracelso e Galeno. La palma d'oro per il manuale di patologia toccherebbe a voi. Per lei, lo scontro a fuoco con la suocera oggi è quasi inevitabile, doppio se lui fa il mammone, triplo se interviene vostra mammina a sviscerare una montagna di critiche al suo indirizzo. Ma perché da voi le partite bisogna disputarle in quattro e non semplicemente in due? Per lui, nervosi voi, nervoso il quattro zampe, che oggi ha qualcosa di selvatico nello sguardo, non sembra neppure lui. Ma nemmeno voi del resto sembrate quelli di sempre, infatti stenta perfino a riconoscervi. Che sorta di malia si sta consumando in casa vostra? Colore delle emozioni, barbabietola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 4, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.